Era come un zombie, immobile, cioè immobile, no, camminava come se fosse un estraneo a questo fatto e stava in piedi con quel che aveva addosso, pantaloni, maglia, era tutto a brandei, con la faccia marron, con della pelle che piccava. Nel racconto di una vicina ancora scossa e che non se l'è sentita di farsi inquadrare c'è la tragedia che questa mattina ha colpito Sant'Antonio in Bosco. Erano passate da poco le 8 quando un boato potentissimo, sentito anche a chilometri di distanza, ha destato bruscamente gli abitanti della frazione. Una casa, al civico 114, è letteralmente saltata in aria. Subito sono scattate le telefonate all'112, i vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato subito un ferito, Gianfranco Zucca, titolare di una falenameria a Sandorligo della Valle. L'uomo, che al momento dell'esplosione era da solo nella billetta in cui viveva da 10 anni con la famiglia, moglie e due figli, è stato trasportato all'ospedale di Catinara, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Presentava ustioni gravi sul 50% del corpo, non è escluso un trasferimento al centro grandi ustionati. Polizie e carabinieri hanno avviato subito le indagini per stabilire le cause dell'esplosione, che ha provocato ingenti danni anche alle abitazioni vicine. Nessuna pista esclusa. Al momento si parla di una fuga di gas. A Cegas APS AMGA ha escluso ogni criticità nella zona, anche sulla base di recenti controlli, laddove in paese molti avanzano l'ipotesi possa essersi trattato di un gesto tragico.